L'ho detto tutto. L'idea, dove ho pingato a verde? Andiamo! Io non ho troppe unie. Oh cazzo! C'è cazzo. Stai hackando o cosa, man? No, no, hackando. No, 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 no. What's up, guys? Quel vostro Naked che vi parla, ragazzi. Siamo tornati. Con un nuovo video, seri dei, a oggi, vi lascio una bella pazzitozza. Perché molti di voi si sono chiesti, ma effettivamente, questo cappero di l'arpa, l'arma nuova, è veramente forte. Cioè, Naked Doni, ma lei ha le prove? Porco Dudu, certo che ha le prove. E sono qua per farlo vedere una delle classi che appunto vi ho fatto vedere ieri nel video Oggi l'ho testata e l'altra l'ho già testata Ma sono qua per darvi la prova con il gameplay E ovviamente il Super Lappones Nazionale Setato per lo sniping support con un silenzitore Agents Canada Ranger 10,2 Micro Flex LED Stanac Da 50 colpi e in pugnatura Fildios Agentios Ovviamente accompagnato dal mio fedelissimo Carletto Che ovviamente oramai è ritornato dentro il mio corazon Raga che dirvi, vi dico che ovviamente è anche una questione di cambio Di non usare sempre le solite armi e di darvi un'opzione validissima Nel poter divertirvi e provare armi che in realtà nascondono una prepotenza Bella e croccante Perché d'altronde è quello che si cerca ogni giorno all'interno di Warzone Quindi ragazzi ribelli, godetevi il video ovviamente Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate della Pones Nazionale Ovviamente non dimenticate di lasciare il like Io ragazzi ribelli, vi mando un bacio Bella Quello è al solito putta da tossico E' sopra? Quello è quello Sì 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 Terra E' fatto bravissimo Minchia Sui piedi cos'ho preso Boh Con l'M2 lui Vabbè Minchia Minchia ma che classe che c'era questo No Non 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 Poi l'ho lancio anche io L'amcio d'equipaggiamento alleato in arrivo Vabbè Nenhimo in volo Sto capendo una sega Non sarò sempre in giro per salvarti Sto facendo tutti i kill in long porco due Ma che cazzo mi è arrivato? Ma mi è sticcata veramente la termite Che cazzo me l'ha sticcata Carina Andre molto forte Ma sticcata una termite ma che cazzo Ma come cazzo è possibile? Ma incredibilmente Facciamo un antidea Brandon? Boh era qui C'è un team intero chiuso di dentro di tre persone frate Ho detto tutto Dove ho pingato a verde? Andiamo E non c'ho troppe unie No non l'ho shoppato Piovex Cioè me l'ha regalato il bundle Me l'ha regalato L'avevo anche già sbloccato Piovex No ce ne sono là lì Infatti me l'ha pingato prima quando ho ucciso uno Giuro Ok ok Oh cazzo Ok Boh vabbè mi butto verso sinistra Sperando che ci sia qualche animo Nemico in discesa nell'area Oh cazzo Oh cazzo Oh shot Ah fuck me Indico le coordinate da raggiungere Non cedo facilmente Lancio una stordente Quigco Non c'è tempo per Togitemi il carlett Lavoro da fare Yo yo Ho una questione bro Crackato Yo You hanking o what man? No no hanking No 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 It's a I'm a streamer bro I'm a streamer bro What? What? On twitch Ok anush Two knock in the house Che me l'ha dato Oh Oh Questo che cazzo è morto Colpi in arrivo Ottimo lavoro Oh Su di me Mi 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 Attacco a grappolo alleato in arrivo Fatto Minchè partitone Bella Minchè ho fatto di quelle cecchidate Questo qua frate Ma questo qua mi ha chiesto Perché ho fatto delle cecchidate fuori di testa Debelo Diocca grazie